Oggi polpette di ceci e zucchine. Per prima cosa grattugio la zucchina, poi andrò a schiacciare un vecchio schiacciapatate così da togliere tutti i liquidi in eccesso. Metterò la zucchina da parte e nello stesso schiacciapatate andrò a schiacciare i ceci in modo tale da togliere la buccia che è meno digeribile. Unisco l'origano e il pepe ed un pizzico di sale, molendo ci sta bene anche la paprika dolce. Andrò a mescolare bene, fin quando l'impasto è omogeneo ed adesso olio unito nella forno, una spolumertina di farina di mais, va bene con la perla polenta. Andrò a formare delle polpette, più o meno tutte uguali, ce ne usciranno tipo 5-6 polpette, puoi farle più grandi, più piccole, come più ti piace e poi le vado a schiacciare. Ecco adesso le schiaccio ancora con la forchetta, cuociamo in forno per 20-30 minuti e 200 gradi. Ed ecco di qui, buonissime, e la prossima videoricetta! Grazie! Grazie!